Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora siamo arrivati alla parte di automazione e oggi inizieremo col vedere come si crea la tabella di eventi, quindi quella tabellina che ci monitora tutto ciò che avviene all'interno del nostro database access. Perché viene creata questa tabellina? Ci sono due motivi, anzi tre. Uno è per avere sempre la situazione di update del nostro database, perché poi il nostro obiettivo quando arriveremo praticamente nella parte 7 sarà automatizzare l'aggiornamento dei nostri processi all'interno dei database, quindi abbiamo tutta una serie di query di creazione, eliminazione, accodamento che fanno la trasformazione dei nostri dati, ok? E noi praticamente cosa facciamo? Andremo a lanciare tutte queste query in modo automatico, quindi il database verrà lanciato e lui in automatico andrà ad aggiornare tutti questi processi, come se lanciassimo una macro che fa tutte queste operazioni da solo. Però la tabella di eventi ci serve per sapere a che punto è il database, perché magari questa database sta su 8 ore al giorno, perché arrivano i dati in diverse fasce orarie e quindi magari aspetta i dati e ogni tanto fa un aggiornamento, piuttosto che magari effettivamente l'aggiornamento dentro deve fare, non so, 20 passaggi di creazione tabella, accodamento, eliminazione e noi ogni tanto vogliamo vedere dove è arrivato, oppure se succede un incidente che magari il database si ferma per qualche motivo, la tabella di eventi ci viene in aiuto per vedere dove era arrivato il database, così noi non dovremo rilanciare il database da capo, ma lo lancieremo dal punto in cui dove eravamo arrivati. Quindi piuttosto che la tabella di eventi viene anche utilizzata per magari essere utilizzata per degli schedulatori, ve ne faccio vedere uno che l'ho preparato qui giusto per darvi l'idea di dove si può arrivare con la tecnologia e l'automazione, ad esempio questo che cos'è? Uno schedulatore in Excel che ho creato io. Qui ci sono tutti gli eventi che ci sono all'interno della tabellina eventi che vedremo a poco, non c'è solo quello di quella tabellina là, ma perché dopo se ne guardiamo il tab di appoggio qui ci sono tantissime tabelline eventi che arrivano da tanti database che si occupano di fare l'aggiornamento di tantissimi dati. E poi che cosa viene fatto? Praticamente qui viene messo il nome del report, ok? Quindi ogni colonna è un report che attende gli eventi che ci sono qua sotto, quindi se io vado qua e ci scrivo una bella n, lui mi aggiunge il semaforo. E poi che cosa succede? Che praticamente se io qua vado a mettergli ad esempio la data di oggi 07022021, ok, il semaforo diventa verde, però il report non è ancora ingaggiabile perché io trovo questi eventi all'interno della tabella di questo database aggiornato, però devo attendere altre due tabelle per poter aggiornare questo report perché questo report è alimentato da queste tre tabelle che io indico qua, che arrivano a tre database access magari differenti o lo stesso. Quando tutte e tre diventano verdi, vedete, il report diventa aggiornabile e questo schedulatore lo ingaggia in automatico e aggiorna il report in automatico. Quando lui ha finito praticamente c'è anche una gestione automatica delle mailing list dove qui si mette praticamente nome, cognome e l'indirizzo email e qua facendo un semplice flag io decido se l'utente riceve per questo report se riceve la mail di aggiornamento oppure no. E ci può andare anche oltre a questa cosa qua. Ne ho fatti diversi schedulatori e si può magari anche fare una pagina web poi che riporta lo status di update dei report piuttosto che dei database. Si può fare veramente tante cose con gli eventi, cioè sapere che cosa sta facendo il nostro database mentre lavora o ci può aiutare a gestire tante cose. L'ultima parte che può essere interessante per le tabelle eventi è che magari abbiamo una decina di database e qualche database attende dati da altri database. Magari c'è il database delle vendite che sta girando però per poter fare un passaggio bisogna sempre di avere una tabella anagrafica aggiornata ad oggi e quella tabella di anagrafica magari è gestita da un altro database allora questo database magari si può mettere un white event quindi un'attesa di un determinato evento che arriva dall'altro database. Quando quell'altro database ha scritto quella tabella anagrafica che l'ha refreshata il database delle vendite la sente perché la legge dalla tabella eventi e allora va avanti con l'aggiornamento dei suoi processi. Quindi la tabella eventi è veramente alla base dell'automazione perché ci permette di sapere che cosa sta succedendo all'interno dei nostri automatismi sia per la parte di automazione ma anche di analisi appunto perché se vogliamo sapere cosa sta succedendo la sfruttiamo per andare a vedere cosa è successo. Quindi come si crea questa tabella eventi? Ovviamente questa tabella lo trovate in descrizione lo potete scaricare così vi trovate sia la tabella eventi che la query di reset è pronta. Poi come si compila come si richiama la query in automatico e tutte queste cose lo vediamo nelle prossime lezioni. Per adesso ci portiamo a casa come si crea e come la resetiamo. Quindi qua va creata una tabella quindi menu crea e facciamo struttura tabella e qua andiamo a creare appunto i campi come vedevamo all'inizio del corso. Adesso la vediamo già compilata e praticamente potete anche farla in un modo differente ovviamente dovete customizzare poi le funzioni VBA che vi passo perché quello che vi passo è strutturato per funzionare con questa specifica struttura. Quindi io qua cosa metto? Un indice che di solito lo lascio numerico non lo metto con numerazione automatica lo farò compilare dall'UsoBasic in modo intelligente diciamo. Qua ci metto la data di quando avviene l'evento e l'ora in cui è avvenuto l'evento ora minuto secondo così so sempre cosa sta succedendo e una descrizione di che cosa ha fatto praticamente il database e io vado a lanciare questa tabella eventi ho preparato degli eventi fake giusto per farvi capire vedete io magari lancio l'automatismo del database quando parte ok come prima riga mi dice guarda oggi ok alle ore 11 inizia aggiornamento ok e mi dice che io ho iniziato ad aggiornare il database a quest'ora qua ipotizziamo che non vediamo nessun aggiornamento io cosa faccio? Entro nella tabella eventi e guardo ma è partito oggi il database? Sì è partito perché trovo l'evento e poi dove è arrivato magari lo vedo fermo fino qua e non vedo i successivi passaggi ok è arrivato fino allo step 2 e poi i successivi non li ha fatti perché da capire la causa però poi quando riprendiamo partiremo dallo step 3 e quindi lanciamo magari uno step manuale che parte esattamente da quel punto là piuttosto che facciamo un database proprio intelligente e quando noi lo rilanciamo attraverso la tabella eventi capisce dov'era e riparte dallo step successivo in automatico sull'automazione ci si può giocare veramente veramente tanto tanto comunque qui appunto scriviamo gli eventi quindi qui inizia qui magari ha fatto la prima query qui la seconda query qui magari poi abbiamo un processo lungo e li dico magari andiamo a scrivere il dato in SQL server e quindi in SQL server è sempre meglio dare uno start perché io vado a svuotare la tabella e poi magari la vado a ripopolare perché magari sto scrivendo un'anagrafica che deve essere svuotata e ripopolata completamente e allora è sempre buona cosa mettere uno start e un end so che quando faccio start magari potrei trovarmi una tabella vuota quando faccio un end so che di sicuro la tabella sarà consistente e poi chiudo magari quando ho finito il database gli dico fine aggiornamenti questa tabella qua ovviamente si deve auto resettare quindi quando tutti i giorni il database si tirerà su la prima cosa che dovrà fare il database è resettare questa tabella quindi dovremo andare a svuotarla a meno che non vogliamo magari tenerci sette giorni di storico ma dalla query che facciamo qui possiamo pilotarla come meglio crediamo ad esempio io qui che cosa ho fatto? ho fatto una query di eliminazione quindi crea query e poi ho fatto crea query e poi fatto query di eliminazione mi sono tirato dentro la mia tabella eventi ho tirato giù il campo data e lì ho detto elimina dove ok tutti i record diversi da data oggi ok date aperta tonda è la data di oggi now è data ora ok ma noi abbiamo il campo data e l'ora ce lo abbiamo staccato ok quindi se io faccio questo e lo lancio adesso vedete numero di righe che verranno eliminate da tabella 6 6 perché ho messo l'anno 2020 se io qua ci mettevo 2021 adesso siamo nel 2021 non mi avrebbe cancellato nulla se la lancio adesso ok vedete non mi cancella niente perché gli eventi sono di oggi quindi fino al giorno dopo la tabella non verrà resettata quindi quando noi andremo a fare il nostro modulo di automazione la prima cosa che andremo a lanciare sarà questa query qua non facciamo l'eliminazione col visual basic che magari non è complicato ma è sempre codice è sempre meglio appoggiarsi a una query perché la query la possiamo modificare con estrema semplicità vogliamo ottenerci gli ultimi sette giorni ok ci facciamo maggiore di date meno sette ad esempio facciamo meno sette e noi così ci manteniamo sempre gli ultimi sette giorni di eventi all'interno della tabella eventi perché magari abbiamo bisogno di vedere cosa era successo ieri o ieri l'altro e lui ci mantiene sempre tutti gli eventi quindi questo è quanto sta dietro le tabelle di eventi poi andando avanti nel corso scenderemo un po' nel dettaglio capiremo appunto come scrivere con le funzioncine apposite e capiremo meglio come andare ad utilizzare questa cosa qua bene direi che è tutto spero che la lezione sia stata di vostro gradimento se così è magari condividete le risorse nei vostri social commentando con qualcosa di positivo se vi fa piacere lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi vi ringrazio molto dell'attenzione ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao